L'uguaglianza è in gioco, questo è lo slogan scelto per celebrare la trentesesima edizione di Vivi Città, la corsa podistica organizzata da Luispi in collaborazione con la FIDAL presentata questa mattina a Roma. L'obiettivo è, come sempre, sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione sociale. Appuntamento a domenica 31 marzo, quando verrà dato il via simultaneo in 34 città italiane, 11 all'estero, gare si terranno anche in 26 istituti penitenziari italiani. Appuntamenti tutti che trovate sul nostro sito